mi ha dato io non ti puoi lì ma parlando le pepe aveva parlato di noi sono lì io ho avuto il Seatamari io ho avuto il Seatamari e ho avuto il Seatamari e ho avuto il Seatamari e io ho avuto il Seatamari Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.